20.000 istituti scolastici non possiedono il certificato di collaudo statico, più del 50% non a quello di agibilità, abitabilità e di prevenzione incendi. Per la messa in sicurezza servirebbero più di 7 miliardi di euro. E' questo il quadro tracciato ad agosto dal ministro dell'istruzione, Marco Bussetti. Uno scenario drammatico se si pensa che uno studente su due in Italia rischia ogni giorno la sua incolumità quando entra in un istituto scolastico. Timori che si sono trasformati in eventi tragici e la mente torna inesorabilmente al 31 ottobre 2002 quando il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia causò la morte di 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio. Da allora sono passati 16 anni ma non molto è cambiato in termini di attenzione rispetto al tema della sicurezza delle strutture scolastiche. Basti pensare che proprio in quel territorio, più precisamente a Santa Croce di Magliano, con le torte e rotello, centinaia di studenti sono ancora ospitati all'interno dei prefabbricati. Ma a preoccupare maggiormente sono i vecchi edifici, molti dei quali costruiti negli anni 50 con progettazioni superate e norme non più adeguate ai tempi. Ed è così che a Campobasso sono stati chiusi negli ultimi 10 anni 18 edifici scolastici con provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali guidate rispettivamente da Luigi Di Bartolomeo e Antonio Battista. In relazione al caos che si registra nella città capoluogo in tema di mancata sicurezza delle scuole, va segnalata la presa di posizione del Comitato Scuole Sicure che ai nostri microfoni attraverso la voce del referente regionale Nicola Simonetti ha denunciato il silenzio dell'amministrazione comunale rispetto a una precisa proposta già da tempo avanzata. Mangano dei dati confattuali, nel senso che ci diano la dimostrazione delle azioni messe in campo, tanto è vero che nei vecchi, parliamo di qualche anno fa, chiedemmo al Consiglio Comunale e agli atti, quindi nel verbale anche del Consiglio, la richiesta di una creazione di una pagina, di una carta d'identità degli edifici scolastici dove chiunque di noi, qualsiasi cittadino libero, possa accedere, sapere in che grado e che scuola, in che modo è stata migliorata, adeguata, quali sono i certificati presenti e di conseguenza scegliere dove mandare il proprio figlio, nella consaporizia esatta della struttura. Questa cosa ancora manca, manca addirittura il parametro degli adeguamenti fatti.